Noleggio a lungo termine, ormai se ne parla sempre di più e un po' tutti cercano informazioni su costi e effettiva convenienza. Chiaramente insieme ai vantaggi inclusi nell'offerta c'è un canone mensile da sostenere e tendenzialmente anche un anticipo. Ecco, per rendere i costi più sostenibili stanno nascendo nuove formule di noleggio e la prima che vogliamo analizzare è Tushair Tifosfagen. Come funzione? Si tratta di un noleggio per privati che prevede non una ma due persone che condividono l'auto e quindi le relative spese. In altre parole, d'accordo contrattuale risultano due utilizzatori. L'auto resta di proprietà di Volkswagen ma c'è un titolare, cioè colui che sottoscrive l'accordo e un secondo beneficiario, chiamiamolo così. Ma che succede se una persona usa l'auto di più rispetto all'altra? Non è detto che il canone sia da dividere al 50%. In fase di sottoscrizione, infatti, si può decidere come ripartire i costi, magari 70-30 o ancora 20-80%. Stessa modularità per il limite chilometrico, che può andare da 10.000 a 200.000 km, mentre la durata del contratto va da almeno 24 mesi ad un massimo di 48. Quali sono le auto disponibili? Avete già avuto un'anticipazione? C'è gran parte della gamma Volkswagen e questo per andare incontro a esigenze diverse. Noi nei nostri video le abbiamo provate tutte, perciò vi rimando a quelli per approfondirle, ma un ripasso non fa mai male. Si comincia dalla app, progettata per la città grazie agli ingombri minimi e all'ottima visibilità. Con le ruote agli estremi della carrozzeria sfrutta bene lo spazio interno e per quanto riguarda la guida, buono l'assorbimento delle buche e l'agilità con il motore a tre cilindri benzina con il quale è proposta. A proposito, si può avere anche a metano. La T-Cross è una delle novità più calde del 2019. Appena sopra i 4,10 metri, con il divano scorrevole e le forme regolari è molto versatile. Al volante è intuitiva e c'è tanta tecnologia, anche di assistenza alla guida. Oltre al 1000 benzina a tre cilindri già citato, si può scegliere anche il 1600 TDI. La Polo è una colonna portante della gamma Volkswagen. Cresciuta rispetto a prima, ma non troppo, è adatta sia alla città, visto che stiamo sui 4 metri, che ai viaggi più lunghi, grazie al comfort di buon livello, l'insonorizzazione curata e alla maneggevolezza e alla stabilità migliorate. E infine c'è la T-Roc, ancora nuova ma già fermata sul mercato grazie ai soli 2 centimetri in meno della Golf, ma un bagagliaio decisamente più grande. Come del resto anche sulla T-Cross, si può poi giocare con le personalizzazioni e tra i motori si può scegliere anche il 1500 benzina da 150 CV o il 2000 diesel, anche con trazione integrale. A chi conviene Facciamo qualche esempio. Questa formula potrebbe essere adatta a due giovani che si ritrovano a condividere casa. In questo modo potrebbero andare a lavoro insieme oppure uscire e poi magari uno usa l'auto per andare a fare sport, l'altro per uscire con la ragazza o ancora nel weekend quando magari il coinquilino è tornato a casa dai suoi. Può andar bene anche a due amici che non per forza condividono casa ma vivono nello stesso paese, magari due pensionati che usano poco l'auto o al contrario due pendolari che fanno la stessa strada per andare nello stesso posto di lavoro o magari posti di lavoro vicini e poi uno tiene l'auto e la usa nel resto del tempo. Poi c'è magari chi spesso si reca in centro città e allora con l'auto a metano non ci sarebbero vincoli di accesso e poi si può condividere questo passepartout metropolitano quando serve perché magari nel resto del tempo c'è un'altra auto in garage buona per tutte le altre occasioni. Al contrario c'è chi magari di un'auto più spaziosa, versatile, perché no, a trazione integrale come la T-Roc può aver bisogno soltanto nel weekend perché il resto della settimana si sposta in scooter, car sharing o mezzi pubblici. Beh, quando non la usa in questo modo la può lasciare al vicino di casa. Insomma di casi ce ne sono tanti e diversi e se vi state chiedendo come si faccia con le chiavi, beh, semplice, in realtà ognuno si tiene la sua coppia. Invece se l'auto è dotata di servizi carnet, beh allora con lo smartphone e la geolocalizzazione potete sempre sapere dov'è. Quali sono i servizi inclusi? Come nelle altre formule di noleggio a lungo termine sono comprese la copertura assicurativa RCA, l'assicurazione personale infortuni, cioè quella per il conducente e poi quella incendio, danni, cristalli compresi e furto e in questo caso è previsto anche un sistema di recupero con un dispositivo a radiofrequenza. Per massimali, franchigie e penalità vi rimandiamo direttamente al sito Volkswagen. Sono incluse ovviamente poi le spese per il bollo, l'immatricolazione e la messa su strada e la manutenzione sia quella ordinaria che straordinaria. È previsto infine il soccorso stradale in Italia e in tutta Europa 24 ore su 24. Quali sono i vantaggi? Con un canone mensile ridotto rispetto a altre formule si può avere un'auto nuova, compresi alcuni modelli che oggi vanno di moda. In più, come negli altri noleggi, tutta la gestione della burocrazia è affidata alla casa e poi si ha la sicurezza di essere al riparo da eventuali costi improvvisi. Se poi già si sa di aver bisogno dell'auto per un periodo limitato, magari perché è la seconda auto, beh allora in questo modo un domani non si dovrà pensare a tutta l'altra fila per vendere un'eventuale auto di proprietà. Quali sono le condizioni? Né il titolare né il secondo beneficiario potranno essere cambiati in un momento successivo. Poi come del resto suggerisce il nome stesso dell'offerta, questa non si può estendere ad una terza persona. Per sottoscrivere il contratto serve l'approvazione da parte di Volkswagen e comunque un conto corrente bancario e almeno un anno di patente. E poi se vogliamo un vincolo è rappresentato dal doversi organizzare per forza con l'altra persona. Non è una formula adatta insomma a chi può avere bisogno dell'auto da un momento all'altro. In questi casi se proprio il noleggio resta l'opzione preferita ci sono altre formule tradizionali, anche di Volkswagen stessa. Quanto costa? Premessa importante, non è richiesto un anticipo per attivare il contratto, anche se comunque volendo si può versare in modo da ridurre il canone mensile. Ipotizziamo che la spesa sia divisa al 50%. Per una move up 1000 a 3 porte, per 3 anni e 30.000 km inclusi, ci vogliono 150 euro al mese a testa, per un totale di 300 euro. Per una Polo 1000 Evo Comfortline con il pacchetto Tekki invece servono 180 euro al mese ciascuno, per 3 anni e 60.000 km, quindi 360 euro in tutto. Una T-Cross 1000 Style viene 210 euro mensili a persona, sempre per 3 anni e 60.000 km, per un totale di 420 euro, mentre per una T-Roc 1000 Style, ancora per 3 anni e 60.000 km, servono a persona 240 euro al mese, 480 euro in totale. I prezzi comunque cambiano in base alla versione che si sceglie, perché questa formula permette di ordinare il modello con l'allestimento, il motore e la dotazione che si preferisce. Poi ovviamente variano anche per l'arco di tempo di noleggio e il chilometraggio e per i servizi extra aggiuntivi.